Siamo nello studio, nel laboratorio di Giancarlo Bargoni che ringraziamo innanzitutto per averci ospitato qui, per averci aperto questo spazio che credo sia anche un luogo molto intimo per un artista, perché qui nasce un po' tutto, quindi è quasi un po' come aprire le porte anche di se stesso, non solo del proprio laboratorio, o no? Ma sì, forse sì. L'ultima volta che ci siamo visti eravamo a Boppio, un anno e mezzo fa circa, era giugno del 2017, lo sfondo era diverso perché era completamente bianco, perché appunto aveva appena terminato questo ciclo e mi diceva che aveva avuto bisogno di questa pausa dal colore e quindi il bianco era servito come dire per tirare una riga e ripartire. Adesso dove ci troviamo invece? In che punto del percorso siamo? Non lo so, perché lì avevo capito che dovevo sciacquare i panni nel bianco per vedere di ricominciare, non so, forse pensavo che facendo così potevo poi ricominciare con colori diversi e un pochino magari è successo con questi ultimi quadri, e questo, ma siamo a un punto di trovare, come dico, sto cercando qualcosa e poi dopo ogni tanto trovo qualcosa. E dove le trova le cose quando le cerca? Lavorando, cioè, parto ad esempio per fare un quadro, non so, un'idea di massima ce l'ho in testa con un certo colore, poi mentre sto lavorando trovo che non va bene in quel modo, lo modifico a posto, e magari cambia completamente l'aspetto e mi si rivela come una cosa che è nuova, anche per me. Cioè, quando, è una cosa incredibile, ma quando parto con un progetto in testa difficilmente viene come l'avevo in testa. E questo implica anche però un sapersi ascoltare molto, un saper rimanere molto in contatto con se stessi, o no? Beh, questa è un'operazione che mi viene abbastanza naturale. Io mi pongo veramente sempre un sacco di paranoia, di problemi, di interrogazioni. Poi, col tempo, diventa sempre più dura. Ti poni sempre le domande, che ho citato già l'altra volta nell'intervista, da dove veniamo, chi siamo, ma soprattutto dove andiamo, dice. E lì allora diventa un po'. E gli interrogativi nel tempo trovano risposte diverse? E non trovi mai delle risposte. E quando, a mio avviso, quando trovi delle risposte, è perché ti racconti delle favole. Sì. Sono lo sprone per andare a cercare ancora, quindi. Sì, continui a cercare, cercare. Cioè, sperando di trovare, trovi qualche cosa, ma sai un po' come il percorso verso l'utopia, no? È l'utopia, non ci arriverai mai, sennò che non sarebbe l'utopia. Però il percorso per arrivarci è molto interessante. C'è qualcosa, riguardando le sue opere tantissime, qualche elemento che lei ritrova, e quindi una traccia di sé del suo intimo, delle sue domande o delle sue inquietudini, che rintraccia, nonostante il passare del tempo, nonostante, magari anche il cambiamento della tecnica, del colore, del tema, ma, sì, riconosco che c'è quella traccia di me. Sì, sì, ce ne sono molti, molti, perché io lavoro un po', il mio lavoro si è sempre svolto a spirale, nel senso che è una spirale che, però, ho la presunzione di pensare che salga, no? Però, cioè, ritorno su un'operazione che ho già fatto, la modifico, la porto, ed essendo spirale sale. Però ritornano degli elementi, dei colori, dei piccoli segni che facevo magari già negli anni Sessanta, che sono molto legati a... ma anche al mio fisico, insomma, evidentemente, perché non è spiegabile bene questa cosa, specialmente in questo tipo di... di pittura, di... così lo chiamano... Io non credo molto all'intelligenza dell'artista, io credo alla sensibilità dell'artista. L'artista è uno specchio, no? Che gira e... e se funziona, riflette quello... quello che vede, passa dentro ed esce. Naturalmente è una cosa mia che mi appartiene, che poi quando la faccio può diventare anche patrimonio di chi la guarda, se la guarda con un certo tipo di sensibilità. Lo spettatore, se vuole partecipare, deve spogliarsi, deve mettersi... cioè non puoi andare ad ascoltare un concerto e pensare che questo concerto... avere l'idea del concerto... e se l'idea del concerto non è come quella che tu pensi, è una cosa che non funziona, no? Devi andare là e provare la sensazione nuova. È così che ti arricchisce l'arte. Cioè ti arricchisce perché... perché non la conoscevi, perché ti dà qualche cosa di... di nuovo. E da un punto di vista... pratico... L'arte è... la poesia... serve a niente. Serve a niente. Cioè non è che ti fa guadagnare di più o di meno. Ti fa essere però più uomo. Ti fa entrare dentro nel senso della vita. Giancarlo, e questo è bellissimo dell'arte che dialoga con lo spettatore. Ma l'arte dialoga anche con l'ambiente, con lo spazio in cui è esposto. Sto pensando ad esempio che Redigo era in dialogo, diciamo così, con alcune opere importanti del Collegio Alberoni, così come adesso questa croce, tratta proprio da lì, che si ritrova nel percorso museale di Cronos, dialoga con un romanico forte, tonico, molto muscolare. Come dialogano le opere con l'ambiente? Ma sai, io sono convinto, e difatti la mostra di Redigo è stata fatta con questa convinzione, tant'è vero che i miei quadri erano mescolati insieme a quegli antichi, ma molta gente ha capito questo problema. È servita anche, ha avuto anche una funzione didattica, perché i valori permanenti sono quelli che restano. Cioè la stessa necessità che io di dipingere è la stessa necessità che aveva l'uomo delle caverne di fare il bisonte. Cioè è lo stesso tipo di rapporto. Cioè quando poi carichi queste cose di simboli, significati, eccetera, vai nella storia, vai nelle... è diverso, i valori primari restano, restano, cioè sono quelli fondamentali. Il fatto di essere, di integrarsi in quel mondo è perché sono due cose che funzionano. Non so se mi sono spiegato. Cioè se fosse un posto brutto sentiresti la discrepanza. Infatti io ho insistito per mettere anche la croce quando era in Duomo. Mi ricordo, sono andato molte volte a vederla perché mi incuriosiva a vedere come reagiva la gente. Perché capisci se comunichi bene o male. Cioè io sono molto meticoloso. Quando dipingo non so cosa succede, ma quando vivo cerco di arricchirmi con questa meticolosità o ho questa sete di sapere cosa pensano gli altri, qual è il tipo di meccanismo che gli fa funzionare la testa per percepire certe cose o meno. L'ultima domanda, che è quella che le avevo fatto anche l'altra volta, ma io alla fine la faccio sempre. Le chiedo il suo stato d'animo attuale e che cosa desidera, che cosa si aspetta, che cosa vuole per sé. È la possibilità di continuare a dipingere. Quello che voglio è continuare a dipingere. Avere la lucidità di poter continuare a dipingere. Magari su una seggiola, magari, però continuare a dipingere. Continuare a fare dei segni, comunicare, usare il linguaggio. Avere la lucidità di poter continuare a dipingere.